Questo è il nostro marchio Sweet Ballerina. La particolarità di questa scarpa è che abbiamo un sacco con degli strass incastonati su un modello slippers, è uno dei modelli più venduti. Questa è la nostra classica scarpa che è da oltre 30 anni che produciamo. Sono tutte scarpe cucite a mano con materiali idroreperlenti con inserti naturalmente in gomma, classico driver, quindi molto comodo da usare tutti i giorni e per guidare. Questa è sempre una nostra linea che fa parte della nostra linea Stockton studiata per un pubblico prettamente giovane con materiali molto morbidi, molto vintage, molto slavati.